A fuoco la chiesa Santissimi Innocenti Martiri di Montesilvano, siamo in via Marmolada con il sindaco Francesco Maragno. Sindaco, potrebbe essere anche un incendio doloso? Mi diceva prima a microfoni spenti che cinque anni fa c'era stato un problema analogo, un altro incendio. Esattamente, la situazione è proprio questa. Ho già sentito i carabinieri e a breve mi rappresenteranno un pochettino come è la situazione. Il rischio reale è che probabilmente si tratti di un incendio doloso e se questo lo consideriamo abbinato a un incendio che c'è stato già nel 2013, la situazione diventa estremamente grave. Sta a rappresentare che c'è qualcuno che ovviamente non ha a cuore le sorti di questa chiesa, di questa parrocchia, però noi come istituzione non possiamo assolutamente farci intimidire. Più tardi chiamerò anche il vescovo per parlare con lui e verificare tutti gli atti necessari per ripristinare quanto prima la funzionalità di questa chiesa, ma soprattutto cercheremo di collaborare al massimo per cercare di individuare quelli che saranno stati i responsabili di questo scempio gravissimo. Un episodio inquietante? Gravissimo e folle nella sua ideazione e nella sua realizzazione perché davvero non so a che cosa si possa ammirare con questi attacchi vili, stupidi, sciocchi, davvero senza senso. Le chiese, al di là del fatto che qualcuno ci creda oppure no, continuano comunque ad essere dei punti di riferimento per la comunità, anche per quelli che spesso e volentieri sono i margini della società e anche dare rispito a tutte le persone che oggi magari non hanno neanche un piatto caldo su cui soddisfare la propria fame. Quindi sono davvero scioccato per tanta gattiveria e tanta stupidità.